Ben ritrovati, l'area Vasta 5 ha ricevuto un'altra importante donazione. È stato consegnato alla UOC di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale di Ascoli Piceno un ecografo di ultima generazione, oggetto di una donazione da parte della FG Holding S.P.A. del gruppo Gabrielli. Ascoltiamo le parole della Presidente Cesira Gabrielli. Sì, ho incontrato, conosciuto il dottor Alberto Leonardi ad una festa di amici e lui praticamente è un radiologo pediatra specializzato in pediatria e neonatologia. Lui mi ha raccontato della sua carriera, del suo impegno negli ospedali di Perugia e di Foligno e appunto il suo trasferimento di seguito all'ospedale di Ascoli. Qui si è trovato benissimo con il professor, con il dottor Ruffini, il primario di pediatria e tutto lo staff però la sua specializzazione nell'usare questi apparecchi ecografici poteva essere meno sfruttata non avendo questo apparecchio molto importante per cui mi ha chiesto l'acquisto, ha chiesto alla famiglia Gabrielli, alla Holding l'acquisto di questo ecografo e un po' la sua passione veramente per il lavoro e ho capito veramente la necessità di questo apparecchio molto importante. Ho riportato la sua richiesta in azienda, in famiglia, in Holding e veramente tutta la famiglia è stata contentissima e hanno risposto tutti quanti positivamente e sono stati soprattutto molto felici di poter dotare il nostro ospedale di Ascoli e tutta l'area Vasta 5 di questo apparecchio molto importante. È stato consegnato, è stata una bellissima cerimonia, ci hanno ringraziato tantissimo e soprattutto la cosa importante è che abbiamo visto l'utilizzo già immediato dell'apparecchio in questa epidemia di influenza che colpisce i bambini, soprattutto la parte polmonare, lo stanno utilizzando veramente tantissimo. E quindi oltre alla diagnostica quotidiana, perché questo apparecchio ha le ruote ed è molto comodo perché è compatto e si sposta facilmente, quindi oltre alla diagnostica addirittura neonatale perché si può visitare addirittura il cranio della fontanella appena nati, fino ai ragazzini. Adesso lo usano proprio per questa emergenza, quindi è stato veramente una bella cosa.